Una critica radicale alla impostazione razionalistica e matematica di Cartesio viene portata avanti da Blaise Pascal. Pascal riconosce le potenzialità della ragione, tra l'altro è stato un genio matematico ed ha inventato il prototipo della calcolatrice, la cosiddetta Pascaline, però contesta a Cartesio la pretesa di voler spiegare il mondo unicamente attraverso la razionalità e il meccanicismo. Critica il ruolo che Cartesio affida a Dio, quello di garantire la razionalità del mondo e di garantire la capacità dell'uomo di comprendere questa razionalità. Per Pascal infatti Dio non risponde tanto ad una esigenza razionale, quanto piuttosto ad una esigenza esistenziale. Dio infatti non è il garante delle nostre conoscenze, ma colui che conferisce significato alla nostra esistenza e in questo senso la ragione umana non può dirci assolutamente nulla sul significato della nostra esistenza o sul destino dell'uomo, né tantomeno su Dio, la cui esistenza appunto non la si può dimostrare in quanto la ragione ha limiti precisi e non può comprendere l'infinito. E invece per Pascal Dio lo si avverte con il cuore, con quello che lui chiama spirito di finezza, cioè uno spirito fatto di intuito, di capacità di penetrare spiritualmente quelli che sono i problemi connessi al senso e al perché del nostro vivere. Nei pensieri Pascal scrive che il cuore ha le sue ragioni che la ragione umana non è capace di intendere. Dunque il Dio di Pascal è un Dio nascosto che parla al cuore e che viene sentito nel cuore, vale a dire viene colto intuitivamente attraverso il sentimento religioso e non un Dio dimostrato con la razionalità come se fosse un teorema di geometria. Non posso perdonare a Descartes, scrive Pascal nei pensieri, avrebbe pur voluto in tutta la sua filosofia poter fare a meno di Dio, ma non ha potuto esimersi dal far guidare un colpetto per mettere in movimento il mondo, dopodiché non sa che farne di lui. Ricordiamo che per Cartesio Dio ha creato la materia, l'ha dotata di una certa quantità di moto, dopodiché l'universo procede esclusivamente retto dalle leggi immutabili della meccanica e per Pascal questo servirsi, per così dire, di Dio è inaccettabile. Pascal invece mette in risalto la precarietà e la contraddittorietà della condizione umana. Siamo come atomi sperduti nell'infinità dell'universo, siamo consapevoli della nostra fragilità, dei nostri limiti, però nello stesso tempo possediamo la capacità di meditare su questa condizione, a differenza di tutte le altre creature dell'universo. E in questo Pascal ravvisa la nostra grandezza e la nostra dignità. L'uomo è solo una canna, la più fragile della natura, ma una canna che pensa. Tutta la nostra dignità sta dunque nel pensiero. Dunque, dinanzi all'impossibilità di spiegare razionalmente la verità dell'universo che è accessibile solo a Dio creatore, non ci resta altro che credere con il sentimento. Secondo Pascal, chi crede tutto sommato non ha bisogno di prove sull'esistenza di Dio, anche perché se potessimo dimostrarne in via definitiva l'esistenza o se Dio si rivelasse in maniera esplicita a noi, ebbene verrebbero meno la moralità e la libertà dell'uomo, perché alla fine non vi sarebbe più alcuna scelta e noi dovremmo inevitabilmente e necessariamente credere in Dio. A chi invece non riesce ad avere la fede, Pascal propone un originale invito a scommettere su Dio, sulla sua esistenza. Qualsiasi giocatore rischia con certezza per guadagnare senza certezza e così non pecca contro la ragione se rischia con certezza il finito per guadagnare senza certezza l'infinito. Se vincete guadagnerete tutto, se perdete non perdete nulla. La conclusione quindi è per Pascal evidente. Scommettete dunque senza esitare che egli esista, perché la posta è quella di guadagnare in caso di vincita una eterna ricompensa, mentre in caso di perdita tutto sommato non si perde praticamente niente o comunque il rischio è molto inferiore rispetto alla posta che ci tocca in caso di vincita, cioè una vita eterna e felice. Dunque, conclude Pascal, vale la pena scommettere sulla esistenza di Dio. Accanto al razionalismo cartesiano e post-cartesiano, a cavallo tra il 600 e il 700, si sviluppa soprattutto in Inghilterra un'altra grande corrente di pensiero, che è quella dell'empirismo. L'empirismo si presenta sostanzialmente come una critica tanto della possibilità dell'ontologia, laddove si rifiuta il concetto di sostanza, della sostanza spirituale e di quella materiale, e una critica della possibilità della teologia, rifiutando il concetto di esistenza necessaria. Gli empiristi in effetti muovono dal presupposto che la conoscenza ha origine dalla esperienza e quindi negano la presenza nella mente di idee innate, ammesse invece, come sappiamo, dai razionalisti. Con l'empirismo si afferma quindi un'idea di ragione che pur riconfermando la propria centralità in quanto elabora i contenuti dell'esperienza, tende però a riconoscere i propri limiti e quindi, in quanto limitata, vengono respinti al di fuori di ogni ricerca legittima tutti quei problemi che non sono accessibili agli strumenti di cui l'uomo dispone. È soprattutto David Hume che mette radicalmente in discussione i concetti importanti tanto della metafisica quanto quelli della moderna scienza della natura, portando l'empirismo alle sue estreme conseguenze e facendolo, per così dire, scivolare nello scetticismo. Secondo il filosofo scoxese, poiché la nostra conoscenza si basa esclusivamente su percezioni, percezioni che poi vengono elaborate successivamente in base ai criteri di associazione, ebbene, all'uomo è preclusa qualsiasi possibilità di conoscere in modo certo e oggettivo la realtà. Dunque, a partire da queste premesse, Hume dissolve radicalmente i concetti portanti della metafisica cartesiana, a cominciare dalla sostanza dell'io pensante, la res cogitans, ridotta a un fascio di percezioni. Scrive nel trattato sulla natura umana, «Io non riesco mai a sorprendere me stesso senza una percezione e accogliervi altro che l'atto di percepire. Quando le mie percezioni sono assenti, come nel sonno profondo, resto senza coscienza di me stesso, e si può dire che durante questo tempo non esisto». Una critica altrettanto radicale viene mossa nei confronti dell'idea di estensione. Spogliate la materia di tutte le sue qualità e voi, in un certo modo, la annientate. Hume spiega la tendenza a considerare l'io e il mondo come sostanze oggettivamente esistenti sulla base dell'esigenza psicologica di rendere coerente la nostra esperienza e di darle una certa continuità, in quanto le nostre percezioni sono sempre discontinue e intermittenti. La nostra esperienza consiste in impressioni che sono sempre frammentarie, non legate le une alle altre. E però, per poter agire nel mondo, noi abbiamo bisogno di attribuire una certa continuità, tanto nel tempo quanto nello spazio, alle cose. E questa continuità la ricostruiamo in modo inconsapevole mediante un'associazione spontanea delle idee secondo i principi della somiglianza, della contiguità nel tempo e nello spazio e del nesso causale. Anche attorno alla questione della teologia, la posizione di Hume rappresenta un attacco radicale. Hume critica le prove dell'esistenza di Dio, in quanto l'esistenza è sempre qualcosa che ha a che fare con l'esperienza, è una materia di fatto e in quanto tale non può venire dimostrata o provata con argomentazioni puramente logiche. Nei dialoghi sulla religione naturale, Hume scrive, avete mai avuto il piacere di osservare l'intero sviluppo del fenomeno dalla prima apparizione dell'ordine fino alla sua estinzione finale? Le nostre idee non oltrepassano la nostra esperienza. Noi non abbiamo esperienza delle operazioni e degli attributi di Dio. C'è una evidente assurdità nella pretesa di dimostrare una materia di fatto o provarla con un argomento a priori. Ciò vuol dire che nelle questioni concrete di esistenza le considerazioni puramente astratte della logica non contano nulla, dal momento che la logica si occupa di puri concetti e non di cose reali. Muovere quindi dal concetto di Dio come essere perfettissimo per dedurne poi la sua esistenza è chiaramente per Hume qualcosa di assurdo in quanto il concetto di Dio come del resto con qualsiasi altro concetto rimane immutato a prescindere dalla corrispondenza o meno con la realtà il che equivale a dire che l'esistenza non è una nota di un concetto. Argomento questo poi che come avremo modo di vedere sarà ripreso anche da Kant. Leggiamo ancora cosa scrive Hume al riguardo tutto ciò che concepiamo come esistente lo possiamo anche concepire come non esistente per conseguenza non c'è un essere la cui esistenza sia dimostrabile. E allora anche il sentimento religioso viene spiegato da Hume attraverso la genesi psicologica vale a dire che gli esseri umani sono inclini ad appellarsi a potenze superiori per superare i propri timori nei confronti dei fenomeni naturali nei confronti della malattia e della morte. I sentimenti umani di paura e di speranza sono in ultima istanza per Hume tutto ciò che possiamo conoscere e asserire con sicurezza. E dunque le idee di anima, mondo e Dio non sono per Hume sostenibili. Con Immanuel Kant si rafforza l'idea della centralità del soggetto nella definizione della realtà. Per Kant infatti la filosofia non descrive più le strutture del mondo ma le strutture del mondo così come viene, per così dire, filtrato dall'apparato concettuale del soggetto. Quindi non più scienza dell'essere ma scienza del mondo così come viene costituito dal soggetto che conosce. Kant opera così quella che lui stesso chiama una rivoluzione copernicana laddove contrariamente a tutta la tradizione precedente rovescia l'idea secondo cui la conoscenza sarebbe un adeguamento della mente alla realtà esterna al soggetto. Per sostenere invece che è proprio la mente con le proprie forme conoscitive a priori l'elemento razionale a dare forma alle molteplici impressioni sensibili che provengono dalla esperienza l'elemento appunto empirico. Scrive Kant nella critica della ragion pura finora si è creduto che ogni nostra conoscenza debba regolarsi sugli oggetti è venuto il momento di tentare una buona volta anche nel campo della metafisica il cammino inverso muovendo dall'ipotesi che siano gli oggetti a dover regolarsi sulla nostra conoscenza. Quindi non è la natura ad avere in sé una legge che l'uomo in qualche modo deve andare a cercare ma è l'uomo il legislatore della natura è l'uomo che prescrive alla natura le proprie leggi. Oggetto quindi della conoscenza è il materiale sensibile un materiale però che viene opportunamente ordinato da quelle che sono le forme conoscitive proprie del soggetto. Avendo così spostato l'attenzione dagli oggetti al soggetto se noi conosciamo gli oggetti alla luce di quelli che sono i modi della nostra conoscenza per Kant ne deriva che delle cose noi conosciamo con certezza soltanto ciò che noi stessi poniamo in esse e ciò comporta che noi conosciamo le cose appunto così come ci appaiono e così come risultano dall'incontro con le nostre strutture conoscitive e mentre ci è assolutamente preclusa la possibilità di conoscerle come essi sono in realtà. Gli oggetti così come ci appaiono sono i fenomeni i soli per noi conoscibili accessibili al di là dei quali sussiste poi la cosa in sé la realtà in sé il numero da Noein che significa percepire con la mente per Kant certo pensabile ma che rimane tuttavia inconoscibile in quanto al di là delle possibilità dell'intelletto umano laddove le nostre forme conoscitive funzionano solo in rapporto al materiale sensibile che esse appunto organizzano che cosa poi siano scrive Kant nei prolegomeni gli oggetti presi in sé stessi a prescindere dalle nostre strutture conoscitive ci è del tutto ignoto di conseguenza quando cerchiamo in ambito conoscitivo di dare una risposta a quelli che sono i grandi problemi della metafisica intorno all'anima al mondo e a Dio che non sono oggetto di esperienza di fatto noi non conosciamo nulla e cadiamo in contraddizioni insolubili erriamo scrive Kant utilizzando una bella metafora in un vasto oceano tempestoso dove nebbie grosse e ghiacci danno a ogni istante l'illusione di nuove terre e incessantemente ingannando con vane speranze il navigante il rabbondo in cerca di nuove scoperte lo traggono in avventure alle quali egli non sa mai sottrarsi e delle quali non può venirne a capo nel caso dell'anima dell'io oggetto della psicologia razionale seppure per Kant è giustificata l'affermazione dell'esistenza del cogito ingiustificato invece il passaggio da questo cogito ad una res ad una sostanza pensante trasformata quindi in una realtà permanente per Kant l'io penso esiste in quanto unifica in quanto dà forma all'esperienza sensibile quando non c'è nessuna esperienza sensibile non c'è nessun io penso così nel procedimento della psicologia razionale regna per Kant un paralogismo cioè una falsa deduzione laddove dall'unità dell'io viene dedotta appunto indebitamente la sua natura di anima sostanziale sulla base di questo errore la psicologia razionale finisce col dire intorno all'anima cose completamente opposte c'è chi dice che l'anima è semplice che è composta mortale o immortale materiale o spirituale cadendo quindi in infinite contraddizioni anche l'idea del mondo del mondo inteso come totalità assoluta è studiato dalla cosmologia razionale per Kant trascende inevitabilmente l'esperienza laddove noi possiamo solo fare esperienza appunto di singoli fenomeni non a caso la ragione nel momento in cui cerca di fare un discorso intorno al mondo inteso nella sua interezza viene a trovarsi di fronte a veri e propri conflitti con se stessa quelli che Kant chiama antinomie e per Kant noi possiamo conoscere certo le leggi che regolano i fenomeni ma non stabilire se l'universo è finito oppure infinito se è costituito di elementi semplici oppure è divisibile all'infinito se implica una causalità libera oppure è soggetto al determinismo che esclude ogni libertà o ancora se vi sia un essere necessario oppure se tutto sia contingente tra queste coppie di affermazioni opposte a ben vedere è impossibile decidersi perché evidentemente quello che si dice sul mondo nella sua totalità non è verificabile essendo appunto al di là di ogni esperienza possibile infine per quanto riguarda Dio che è oggetto della teologia razionale Kant confuta le prove dell'esistenza di Dio elaborate dalla tradizione che a suo avviso sono tutte riconducibili all'argomento ontologico argomento che pretende di dedurre l'esistenza di Dio con un gioco di prestigio scrive Kant dal semplice concetto di Dio come essere perfettissimo affermando quindi che in quanto tale in quanto perfettissimo Dio non può mancare dell'attributo della esistenza ma scrive Kant il gioco di prestigio con cui si sostituisce alla possibilità logica del concetto la possibilità trascendentale delle cose può ingannare e soddisfare soltanto gli inesperti e Kant ricorre a questo proposito ad una frase anche ironica laddove dice che cento talleri nella mia mente non sono cento talleri nella mia tasca vale a dire che alle idee non corrispondono necessariamente le cose anche in questo caso quindi l'esistenza è qualcosa che possiamo constatare solo per via empirica e non dedurre per via puramente intellettiva e dunque la metafisica questo palazzo di sogno per Kant non è possibile come scienza tanto la psicologia quanto la cosmologia e la teologia razionali non sono scienze ma pseudoscienze eppure Kant riconosce che la metafisica rimane una esigenza insopprimibile dell'animo umano e un perenne anelito la ragione umana scrive Kant anche senza il pungolo della semplice vanità dell'onniscienza è perpetuamente sospinta da un proprio bisogno verso quei problemi che non possono in nessun modo essere risolti da un uso empirico della ragione alla metafisica quindi non possiamo rinunciare anche se occorre abbandonare ogni tentativo di fondarla razionalmente negata come scienza la metafisica viene poi recuperata da Kant nell'ambito dei postulati della ragione pratica libertà immortalità dell'anima esistenza di Dio sono presupposizioni necessarie dal punto di vista pratico sul piano morale ma non sono dimostrabili l'azione umana infatti per Kant richiede innanzitutto la libertà come suo postulato in quanto non vi sarebbe responsabilità morale se il soggetto non fosse libero di operare le proprie scelte e solo se l'anima è immortale vi potrà essere una conformità completa della volontà con la legge morale una conformità che richiede un progresso all'infinito oltre il tempo della nostra esistenza in un'altra zona del reale e infine scrive Kant è moralmente necessario ammettere l'esistenza di Dio ovvero la credenza in una volontà santa e onnipotente che faccia corrispondere la felicità al merito alla virtù si tratta di postulati che non possono valere come conoscenze ma che di fatto sono legati inseparabilmente all'interesse pratico grazie a tutti